L'ipotesi scientifica di un'origine naturale del virus è plausibile. Se si può verificare questa origine naturale, sarebbe la prima volta che un virus chimerico ricombinante, patogeno per l'uomo e isolato in natura. In realtà questo virus chimerico è una ricombinazione di un virus derivato da una specie particolare di pipistrello e dal pangolino, quindi ricombinante chimerico da due specie diverse che vivono in due nicchie ecologiche diverse e quindi è molto difficile giustificare come queste due specie ecologicamente distanti possano incontrarsi. Per questo si suppone che possa esistere un vettore intermedio che ha assorbito questo virus ricombinante e questo vettore intermedio ha trasmesso all'uomo il virus. Finora il vettore ricombinante non è stato ancora isolato né individuato neanche a livello di ipotesi scientifiche e addirittura si pensa che ci possa essere una trasmissione addirittura interumana dei due virus separati venendo dalle due specie diverse. C'è un'ultima osservazione da fare che è estremamente importante e pertinente e che il virus del pipistrello non è patogeno per il pipistrello, quindi il pipistrello vive tranquillamente con questo virus che lo porta come carie, mentre invece il coronavirus del pangolino è patogeno per il pangolino, quindi il pangolino si ammala di questo virus. Per questo è molto difficile giustificare una ricombinazione naturale quando le due specie rispondono dal punto di vista immunologico e di patogenicità in maniera diversa. Tutto nasce dalla prima epidemia SARS-1 scoppiata nel 2002 in Cina che si prolunga per due anni fino a 2004 in cui si individua l'origine dell'epidemia da un coronavirus di pipistrello, quindi tutti gli scienziati cinesi incominciano una campagna importante di screening di tutti i coronavirus che si trovano nei pipistrelli di origine asiatica e vanno soprattutto nella zona del sud della Cina, di Guangzhou, che è la zona caldo-umida dove i pipistrelli si trovano nelle grandi grotte della zona di Guangzhou e dello Yunnan per isolare questi coronavirus. La professoressa Shi Jin Lee, che è considerata e soprannominata la Batwoman, la biologa che studia i pipistrelli, viene incaricata di fare questa campagna di raccolta di questi campioni di virus dalle feci dei pipistrelli e quindi creare una banca dati di questo tipo. Alla fine di questa campagna che dura due anni e che è sponsorizzata anche da organizzazioni internazionali, la Shi Jin Lee si mette in contatto con il professor Ralph Baric, che è il grande guru della ricerca dei coronavirus negli Stati Uniti nell'Università in North Carolina, per avere il supporto per poter sviluppare le tecniche di ricombinazione chimerica in vitro, in laboratorio utilizzando i principi di gain of function, cioè cambiando, manipolando il genoma in maniera da trovare gli elementi che sono responsabili della patogenicità virale, quindi sia della contagiosità che della virulenza. In questo mondo incomincia la storia dei primi ricombinanti chimerici coronavirus SARS-like sviluppati nel laboratorio di Wuhan, con una collaborazione intensa fra i virologi cinesi, che si occupano di questo, e i virologi americani, esperti nelle tecniche di ricombinazione genetica sui coronavirus. La genesi di questo virus ricombinante chimerico in laboratorio può essere descritta in tre fasi essenziali. La prima fase, il primo step, è quello della ricombinazione dei due backbone, cioè delle due matrici del virus del pipistrello, l'RATG13 e del virus del pangolino, l'MP789, che sono stati fusi insieme per poter dare un cambio, un cambiamento del RBM, cioè del receptor binding motif per l'affinità per il recettore umano ACE2. Senza questa ricombinazione non si sarebbe potuto dare una affinità sufficiente a questo virus ricombinante per attaccarsi alla cellula umana. Questo è il primo passaggio. Il secondo e il terzo passaggio della modificazione del virus ricombinante chimerico riguardano gli inserti, chiamati così, sono delle inserzioni del materiale genetico del virus che espandono e incrementano l'attività contagiosa e di virulenza del virus stesso. C'è un primo inserto che deriva dal virus dell'HIV1 che è stato ampiamente descritto dai ricercatori francesi del gruppo di Montagnier e Lopez, dai ricercatori di Pradant in India, dell'Istituto di Tecnologia indiano e dai ricercatori canadesi di Etienne Delory, che hanno mostrato chiaramente questi inserti del virus dell'HIV che aumentano la capacità del virus di attaccarsi alla cellula umana e di penetrare. Questi sono specifici per la cellula umana. C'è un altro inserto fondamentale che agisce non solo sulla membrana cellulare ma anche nella macchina interna della cellula umana che è il cosiddetto inserto furinico. Questo inserto furinico non solo permette la capacità al virus di penetrare attraverso il recettore furinico con un meccanismo di endocitosi ma anche di arrivare all'interno della cellula per stimolare e favorire la replicazione virale sulla proteasi furinica. La presenza di questi due inserti esclude in maniera assoluta l'origine naturale di questo virus ricombinante chimerico. L'ipotesi più accreditata è quella di una fuga accidentale di un outbreak dal laboratorio di Wuhan dei ceppi virali patogeni che si sono dispersi nella popolazione circostante. Tutto questo è comprovato dalle osservazioni riportate dalle intelligence di diversi paesi e dalle testimonianze dei cittadini locali. Premesso che tutti i virus mutano e si ricombinano. Sin dall'inizio dell'epidemia a Wuhan i ricercatori cinesi hanno descritto due varianti di questo virus ricombinante chimerico. La variante S è molto contagiosa ma poco virulenta e la variante L invece poco contagiosa ma molto virulenta che si sono succedute nel tempo nell'epidemia a Wuhan. La propagazione nel mondo dei due ceppi virali ha fatto insorgere altre varianti che si sono ricombinate in maniera diversa a secondo degli ambienti geografici, delle nicchie ecologiche del virus. Oggi sono descritte fino a 20 clades, come si chiamano, le varianti che sono persistenti in diversi paesi del mondo con diverse prevalenze. In particolare c'è una variante, la G614D, che è la variante prevalente negli Stati Uniti ed è responsabile dell'epidemia attuale negli Stati Uniti, che mostra una particolarità unica. Il numero delle spike, cioè delle proteine spike, delle antennine del virus, è aumentato, quindi aumentando la contagiosità di questo ceppo virale, non la virulenza per ora, ma solo la contagiosità, il che spiega la propagazione del virus negli Stati Uniti. Il solo paese che ha la potenzialità di sviluppare il vaccino polivalente è la Cina, che ha creato e possiede la matrice originaria. Tutti gli altri paesi potranno sviluppare soltanto dei vaccini specifici per il ceppo prevalente nella regione di interesse. C'è un'altra possibilità che è quella di sviluppare dei vaccini sintetici, genomici, che possono coprire le varianti esistenti. La ricerca biotecnologica moderna ha spinto anche la ricerca sulle armi biotecnologiche, sulle bioweapons. L'accesso alle bioweapons non è più un privilegio o un diritto dei grandi paesi che sono all'avanguardia delle biotecnologie, ma anche i paesi terzi possono dotarsi oggi di armi biotecnologiche con un basso costo e con una produzione molto rapida in un periodo breve di tempo. Tutto questo pone un grande problema dal punto di vista etico sull'umanità se interdire realmente la ricerca sulle armi biotecnologiche oppure se rivedere tutta la legislazione internazionale che regolamenta la convenzione per le armi biotecnologiche. Ricordiamoci che attualmente la convenzione si è occupata sin dall'inizio delle armi nucleari, delle armi chimiche, delle armi che avevano un impatto sull'ambiente, ma le armi biotecnologiche erano state messe da parte perché non c'era ancora il grande sviluppo. Oggi è venuto il momento di regolamentare la ricerca biotecnologica per un uso duale in maniera da ridurre al massimo il rischio di deterrente di armi biologiche nel mondo per la protezione dell'umanità. Abbiamo imparato a conoscere questo virus, abbiamo imparato a studiare, analizzare le diverse fasi della malattia e quindi a trovare i sistemi diagnostici e terapeutici adeguati alla evoluzione della malattia. Questo ci ha permesso per il momento di ridurre la mortalità legata a questa epidemia, soprattutto nelle fasce dei pazienti anziani e allo stesso tempo per monitorare l'epidemia della sua diffusione nel mondo.